Ciao ragazzi, bentornati con un video, parliamo oggi di Mike Terrana, ne abbiamo già parlato, ma siccome sono andato il 5 febbraio a Cagliari al Drumfest, guardiamo con voi un paio di suoi soli per gasarmi e ricordarvi che il 5 febbraio a Cagliari alla Cueva Rock ci sarà il nostro primo Drumfest con Mike Terrana, Ramon Montagnè, il sottoscritto, Andrea Gianangeli, Fabrizio Murgia e Alex Pichao quindi premesso, momento pubblicità, ma andiamoci a vedere in anticipo, Mike Terrana è un suo solo e la descrizione è fantastica, Mike Terrana solo, very good, e il tipo ci ha visto giusto? I mitici soli con lo stick twirling che chi di voi non ha provato i mitici da Mike Terrana, dai facendo lo stick twirling male, io ci ho provato bisogna fare l'applauso al fonico perché c'è un suono di batteria fantastico e sto rullante e... ... 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 Notare poi le misure piccole dei tom, che è una cosa che mi ha spiegato un tanto, siamo un 8-10 e il timpano, questo qua sembra addirittura un più piccolo del volante, quindi sembra addirittura un 12. Grazie per la visione! Cioè, che cazzo gli dici? È troppo figo, è troppo figo, proprio... Avanti, avanti, vieni Alvi, sto finendo la reaction video, lo lasciamo online, se lo puoi vedere anche tu ti metto nel video. No, è una reaction, sto facendo la realizzazione della down soul, è una reaction. Vieni, presentati, vieni, vieni nel video. Ragazzi, vi presento l'uomo dei microfoni e dei discorsi più deliranti sull'equalizzazione, vieni, vieni, lascio la webcam. C'è Alberto Bandino, che è colui che ha mixato la maggior parte dei miei video su YouTube, ecco qua, esatto, ed ecco, ha fatto dei microfoni... In Tanasca c'è sempre qualcosa... Esatto, esatto, portai tipo il remaggio, solo che lui porta i microfoni. Peccato che non si vede, ma non è che sta spaccando tutto. Grazie a tutti, grazie a tutti. Questo è veramente un bel solo, ragazzi, questo è proprio un bel solo, e infatti quando vedi strava qua, capisci che se lui suona il 5 e tu suoni prima, io sono un po' prima di lui, e bisogna mettersi sotto per non dire altro. Come anche il pezzo Samba, la durullante è fantastico, come le qualizzazioni è... Madonna, ragazzi... Ah, grande, mi dico... School hit, boom! La Madonna... Tanto il 5 e chi mixerà... Il 5 e chi mixerà la batteria ma interna sarà il mio amico Alberto, che avrà da mixarsi non solo Terranama, ma anche 5 batteristi di 5 generi diversi. Quindi, hai voluto fare il fonico? Ragazzi... Ragazzi... Mostro oggi... Come là, buona, buona! È buona, 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 buoni? Ehi, buona, buona, buona! Allora, here we go! Ehi oh 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 Yeah, fucking God And I'll play it with jazz for you Qua era veramente al picco della forma secondo me, veramente un bel solo. La serrana va a fanculo, va. La serrana va a fanculo. Ragazzi, non c'è un cazzo da dire. Uno dei migliori batteristi rock metal secondo me di sempre. 5 febbraio a Cagliari al Bateras Beat Ram Fest. Continuiamo a vedersi i suoi video e commentarli in questi giorni. Un like, un commento, a te la campanella e alla prossima. Un like, un commento, a te la campanella e alla prossima. Grazie a tutti